I consigli e le raccomandazioni si sprecano, ma non sono mai abbastanza. Perché nella rete delle truffe, e in modo particolare di quelle online, tutti possono cadere. Secondo i più recenti dati, sia anziani che giovani, senza grandi distinzioni. Per questo, nel sulci siglesiente, aumentano gli incontri e le occasioni affinché si tenga la guardia alta. Questa volta è il turno di Trattalias, dove domani, martedì 31 gennaio, dalle 16 presso il Centro Culturale, i carabinieri della stazione locale, in collaborazione con l'amministrazione comunale, hanno organizzato un incontro formativo denominato Cultura della legalità per la prevenzione dei reati predatori, truffe, truffe online e reati del Codice Rosso. L'incontro è aperto a tutti, anziani e non solo. Durante la serata verranno illustrate le principali truffe, comprese quelle informatiche. Saranno presenti il comandante e gli uomini della stazione del paese, il sindaco di Trattalias Emanuele Pess, l'assessore alla cultura Claudia Carboni, ma anche il parroco Don Maurilio Azzei e i soci dell'hauser di Trattalias. Durante l'incontro saranno proiettati alcuni video e a seguire un dibattito. Grazie a tutti.